paraculata, perché Apple è la regina delle paraculate. Cosa possiamo rubare dal sito web di iPhone 15? Lo vediamo oggi con un'analisi dell'esperienza utente e alla fine gli darò un bel voto nel tempo di una bella birra. Io sono Lorenzo Pinna e sono un esperto di esperienza utente. Potenzio le tue conversioni ottimizzando la tua esperienza utente. Salute! Qui a noi non ci interessa il prodotto iPhone, a noi qui ci interessa la pagina web, come è stata progettata a livello psicologico e tecnico. Piccola premessa, le pagine web di iPhone sono sempre una figata pazzesca, c'è sempre un sacco di roba da rubare, però stai molto attento perché Apple è un brand molto diverso dal tuo. Loro possono fare cose che tu ovviamente non puoi. Partiamo subito con un 5 second test, ovvero un test dei 5 secondi. Via! Allora, innanzitutto mi delude un po' perché nella above default, ovvero questa parte qui che vediamo, non è presente un'animazione, quindi non c'è niente che mi faccia dire wow. È una immagine statica. Siamo comunque davanti a un prodotto pop, quindi abbastanza popolare, non come iPhone Pro. Qui abbiamo le persone comuni, tra virgolette. È tutto molto bianco questa parte, prima di tutto le novità. Mi piace molto, molto ordinato. Non so se vedete, ma sono presenti dei caratteri che non posso vedere. Questi caratteri sono stati messi da un iPhone o comunque da un prodotto Apple. Quindi chi ha un iPhone può vedere questi caratteri presenti qui in guarda il video, quindi non li trovo molto accessibili. Cioè chi non ha un iPhone non può vedere queste emoji. Notate anche il simbolo qua, 979 e poi c'è un simbolo strano. Non è stato fatto un test sugli altri prodotti, quindi chi ha altri prodotti vedrà, diciamo, delle cose un po' strane in questo caso. Quindi errore trovato. Bellina questa parte qui perché viene creato un elemento nuovo, questa specie di caricamento delle slide. Magari non c'era la necessità di mettermelo già, diciamo, quando ero qui. Magari poteva uscire fuori semplicemente quando avrei visto tutta la slide. Molto bello il copy, ragazzi. Qua siamo davanti a dei maestri del copy. Prima di tutto le novità. Molto bello. Vedete, qui ci sono le animazioni, ma perché non me le hanno messe prima? Mi avrebbero aiutato tantissimo. Una bella animazione qui in cima, subito appena entro nel sito, mi avrebbe dato una sensazione molto diversa rispetto a un'immagine piatta. Apple le fa queste cose. Perché non l'ha fatto stavolta? Bello questo effetto sorpresa che c'è nelle slide. Ci sono delle immagini statiche, ma ci sono anche dei video. Quindi interessante. Notate che hanno messo il video dalla slide 2. Infatti, vedete qui? Ecco qui. Anche la slide 3 ha l'animazione. Anche la slide 4 ha una leggerissima animazione. Cioè, tutti hanno un'animazione tranne la prima slide. Perché? Avrei messo un'animazione anche da prima. Forse perché non volevano disturbare nello scorrimento? Boh, io l'avrei messa. Dai un'occhiata da vicino. Qua mi fa vedere i colori. Quindi qua sta cercando di stimolare la mia voglia di personalizzazione. Quindi la prima cosa che fa cerca di ragionare a livello razionale. Cioè, mi dice quali sono le novità rispetto a prima. Quindi praticamente le cose che magari i miei amici possono invidiare di questo nuovo dispositivo. Strana sta cosa, perché mi sarei aspettato invece un approccio emotivo da subito. Qui me li fa vedere tutti. Poi, se voglio, posso andare a vedere. Posso anche ingrandire. E ora tutti i dettagli. Quindi si concentra sulla parte razionale. Va a approfondire tutte le varie cose che mi aveva detto prima. Perché Dynamic Island me l'ha detto anche prima. Ah, qui il video me lo mette. Ecco. Perché me lo mette qui? Bello questo dettaglio. Vedete? Cioè, mi prende, mi mette un'anteprima. Poi, se voglio, vado ad approfondire. Questo è il tipico percorso che bisognerebbe fare in ogni sito web. Cioè, prima diamo l'anteprima e poi dopo facciamo approfondire. È un chiarissimo esempio. Una cosa semplice ma non banale. E se serve si sdoppia. Cosa vuol dire? Cioè, mi mette curiosità. Di qua poi, mano a mano che io scorro, lui ovviamente entra più sempre più nel dettaglio. Torniamo alla pagina principale. È fatto di colore. È fatto per durare. Notate questo doppia E. Una è con l'accento e una senza. Molto interessante a livello visivo. Quindi giocano con il copy sia a livello di significato e sia a livello visivo. Quindi percettivo. E finalmente hanno messo una differenziazione nel testo. Perché di solito era un muro di testo che non si capiva. Invece, meno male, qui con i colori mi hanno differenziato il testo. In modo tale che io possa leggere in maniera immediata, per esempio, il colore del vetro posteriore e infuso direttamente nel materiale. Questo perché leggo prima questa frase? Perché ha un contrasto superiore. L'occhio attirato con l'accoppiamento di colori con maggior contrasto. È bello anche da toccare. Quindi qua gioca con i sensi. Qui va a toccare tutto il mondo green. Torno nella pagina principale. Video. Quindi lui mi mette i video in maniera strategica per non farmi annoiare praticamente. Soltanto che sto vedendo video praticamente solo di oggetti e non di persone. Mi piacerebbe vedere persone, come di solito fa Apple. Resistente ci puoi contare. Molto interessante. Quindi ragazzi qui copy. Guardateveli tutti. Studiateveli perché sono veramente una lezione. Qui strana l'idea di mettere iPhone e non iPhone 15. Come se iPhone 15 fosse l'iPhone. Molto interessante a livello marketing perché mi porta a dire iPhone 15 è l'iPhone. Gli altri non sono iPhone. O comunque sono iPhone vecchi. Qua molto interessante la coerenza visiva. Cioè Apple ha un suo stile e lo sta consolidando in questa pagina. Quindi non si distacca dal suo stile. Mai distaccarti dal tuo stile. Perché? Perché la coerenza è sinonimo di forza, di sicurezza, di posizionamento. Molto spazio tra titolo e immagine. Quindi questo per farmi darmi respiro. Ancora testo. Molto testo. Allora in questa pagina vedo molto testo. Ci sono anche immagini ma c'è molto più testo delle immagini. Questo non te lo consiglio di farlo. Perché? Perché nel tuo sito web i tuoi utenti non conoscono magari il tuo brand e quindi avrai bisogno di stimolarli maggiormente. Qua ovviamente le persone sono arrivate in questo sito perché magari sono indecise e vogliono capire quali sono le caratteristiche per comprare iPhone 15. Molto interessante qui il layout fino a a capo quattro volte più a capo risoluzione. notate. Allora le cose importanti sono la parte iniziale e la parte finale. Quindi la parte iniziale è un quattro. La parte finale è un più. Notate proprio come sono messe le parole. Perché c'è una logica ragazzi. Non sono messe a caso. E poi mi chiude teleobiettivo due per. Quindi con simboli. Inizia con simboli quattro e finisce con simboli due per. Molto interessante. Queste robe attirano la mia attenzione. Attirano il mio occhio. Fai zoom sulle fotocamere. Notate che è a compartimenti stagni. Cioè c'è ogni parte ha il suo approfondimento. Mi ripete il titolo per dirmi. Ehi è quella la parte. Quindi questo è voluto. Magari qualcuno avrebbe detto. Ah ma mi sta ripetendo il titolo. Che palle. No. La ripetizione agevola lo sforzo cognitivo. Quindi lo abbassa lo sforzo del nostro cervello. E ci fa dire. Ah mi trovo nella sezione giusta. E quindi tranquillità. Torniamo alla pagina principale. Siamo in una parte molto noiosa. Dove c'è testo immagine. Testo immagine. Questo potrebbe essere voluto. Potrebbe. È voluto. Cioè stiamo parlando di Apple. Inizio a vedere persone. Persone che sono dentro un iPhone però. Attenzione. Notate sempre la multietnicità delle persone. Quindi persone di diverse etnie. Questo è per l'accessibilità ovviamente. È l'inclusione. Quindi varie persone si immedesimeranno. Le varie etnie si potranno immedesimare nei vari clienti Apple paraculata. Perché Apple è la regina delle paraculate. Questa è una parte strano che me l'abbiano messa qua perché è molto interessante. Vedete. Magia. Il fuoco è qui. E ora è lì. Questo è un titolo diverso rispetto a come abbiamo visto prima dove il titolo veniva ripetuto. È un errore. Potrebbe essere la rottura di un ritmo. Cioè mantengono lo stesso ritmo e poi a un certo punto lo rompono. Paraculata. Zoomare. Oh oh. Bellissimo. Il copy fantastico. Veramente. Interessante anche l'utilizzo dell'immagine all'interno della pagina. Chip a 16 bionic. Una potenza da pro. Quindi qua ti sta dicendo. Ha degli elementi del pro in questo. Quindi. Ah e fa vedere il video. Interessante. Quindi qua video leggero. Strana sta cosa. Allora. Io la reputo un errore. Cioè prima mi parlava di iPhone. Invece adesso mi parla di iPhone 15. Cioè perché. Perché questo cambio. In caso di emergenza puoi contattare. Puoi contare su iPhone. Ecco questa cosa qui l'avrei usata molto di più come leva. Perché è molto potente. Non so se avete visto l'evento ma nella parte iniziale c'è un bel filmato che fa vedere il perché dovresti comprare iPhone. Ovvero per la sicurezza della tua vita. Cioè ti salva la vita. Qua me l'hanno relegato al ventesimo scorrimento. Peccato. Perché qua sarebbe stata una leva emotiva molto forte. E poi quest'immagine che non è che si capisca molto eh. Che è un incidente stradale. Un'ambulanza che sta andando a soccorrere uno. E poi molto infelice questa scelta. Perché iPhone ha due funzioni di sicurezza progettate per salvarti la vita. Poco contrasto rispetto allo sfondo nero. Vediamo come funzionano. Caso di emergenza puoi contare su iPhone. SOS emergenza per satellite. Guardate. Una valanga di testo. Una valanga per poi dopo farmi vedere. Mi fa vedere un video? No. Non mi fa vedere nemmeno un video. Peccato. Un rilevamento incidenti. Qua potevano farmi vedere come funzionava proprio con un video. Cioè proprio in maniera semplicissima. Invece stanno utilizzando delle immagini statiche. Ecco quindi grande consiglio che ho da darti è se devi far vedere come funziona una determinata cosa non star lì a scrivere troppe cose. Fallo vedere con dei video veloci. E poi magari usa il testo per dire le parole chiave. Ecco. pensato. Pensando a tutto. Bella. Parte pallosissima. Il tuo look. I tuoi adesivi. Tutto il tuo stile. Quindi qua va di rassicurazione. Perché siamo nella parte finale. Mi immagino. Interessante come l'animazione. Vedete qui. Name drop come si carica. Bellino questo effetto parallasse. Una bella famiglia allargata. Quindi qua mi dice. Ah lo puoi accoppiare con questo e con l'altro. Acquista da Apple e risparmia. Finito. Allora. Che voto gli diamo? Sinceramente essendo che l'evento si chiamava Wanderlust e quindi meraviglia. Sinceramente non mi ha dato questa meraviglia. Quindi da questo punto di vista gli do un bel 4. Gli do 4 e non 2 perché comunque qualche video me l'ha messo. Però me l'ha messo secondo me in dei punti troppo lontani. Io mi aspettavo una bella animazione qui subito appena entro nel sito. Cavolo. Magari è perché sono da mobile ma la maggior parte delle persone che entreranno in questa pagina soprattutto iPhone 15 e non iPhone 15 Pro entreranno da mobile. Navigabilità. Allora navigabilità gli do un 10 perché veramente è molto navigabile. So dove sono le cose. Molto semplice. Ho capito dove sono i prezzi. Subito immediatamente. Cioè qua me lo mette subito. Non mi parla di emozione. Mi dice subito guarda i prezzi. Attenzione qui è come se mi chiedesse te lo puoi permettere. Molto arrogante questo inserimento di questo bottone proprio in above the fold dello scroll zero. Gestione degli spazi direi un bel 10. Mi piacciono molto gli utilizzi della spaziatura più larga, della spaziatura più stretta. Molto interessante. Accessibilità. Non mi piace questo utilizzo di caratteri speciali che li posso vedere solo da un dispositivo Apple. Non mi piace. Mi dispiace. E quindi gli do un 6 perché per il resto diciamo che sono stati bravi. Hanno inserito comunque a livello ergonomico gli elementi nel posti giusti. Quindi anche qui per dire il controller dello slider me l'hanno messo sotto in modo tale che io col pollice ci arrivi facilmente. E memorabilità. Allora memorabilità io gli darei un bel 3 perché non me lo ricordo sto sito. Cioè non me lo ricorderei. Le altre pagine degli altri iPhone me le ricordo ancora da quanto erano fatte bene. Questa è estremamente razionale. Estremamente. Avrei voluto molta più emotività. Gli do un 3. Mi dispiace ma non me la ricorderò questa pagina bianco. Molto semplice. No. Avrei voluto qualcosa di meglio. Colori. Stai parlando di colori. Usami colori. E invece no. Mi hanno usato il colore bianco e basta. Invece avrei voluto mi utilizzassero una maggiore varietà di colori. Per oggi è tutto. Ci vediamo la prossima settimana con il consiglio di UX. Se vuoi rimanere aggiornato su come potenziare le tue conversioni con l'esperienza utente e quindi soddisfando i tuoi utenti iscriviti al canale e clicca sulla campanella. Progetta responsabilmente perché i tuoi utenti non ti danno una seconda possibilità.